Buonasera, siamo qui con Alice Bertoletti, autrice di una grande prestazione, cosa ne pensi della serata? Sono molto contenta della prestazione che abbiamo fatto oggi, all'inizio abbiamo fatto un po' fatica a entrare in partita, poi abbiamo chiuso il primo set ai vantaggi, siamo riusciti a fare molto bene muro difesa e questo ci ha agevolato anche nel secondo e terzo set, permettendoci di portare a casa tre punti molto importanti. Perfetto, grazie mille, buona serata, a settimana prossima! Forza promo!